lezio divina mercoledì 1 febbraio 2023 lettura dal vangelo secondo marco 6 1 6 in quel tempo gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono venuto il sabato incominciò a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano d'onde gli vengono queste cose e che sapienza è mai questa che gli è stata data e questi prodigi compiuti dalle sue mani non è costui il carpentiere il figlio di maria il fratello di giacomo di gioses di giuda e di simone e le sue sorelle non stanno qui da noi e si scandalizzavano di lui ma gesù disse loro un profeta non è disprezzato che nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua e non vi poté operare nessun prodigio ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì e si meravigliava della loro incredulità gesù percorreva ai villaggi insegnando riflessione il vangelo di oggi ci parla della visita di gesù a nazareth e descrive la chiusura mentale della gente di nazareth che non volle accettarlo il vangelo di domani descrive l'apertura di gesù verso la gente della caridea dimostrata tramite l'invio in missione dei suoi discepoli marco 6 1 2 a gesù ritorna a nazareth in quel tempo gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono venuto il sabato incominciò a insegnare nella sinagoga è sempre bene tornare nella propria patria e ritrovare le persone amiche dopo una lunga assenza anche gesù ritorna e come al solito il sabato va alla sinagoga per partecipare alla riunione della comunità gesù non era il coordinatore della comunità ma pur non essendolo prende la parola e comincia a insegnare segno questo che le persone potevano partecipare ed esprimere la propria opinione marco 6 2 b 3 reazione della gente di nazareth davanti a gesù la gente di caparna o aveva accettato l'insegnamento di gesù ma alla gente di razareth non sono piaciute le parole di gesù e rimane scandalizzata motivo gesù il ragazzo che conoscevano fin dalla nascita come mai era così diverso loro lo accettano il mistero di dio presente in gesù un essere umano comune come loro conosciuto da tutti per poter parlare di dio doveva essere diverso da loro come si vede non andò tutto bene con gesù le parole che sarebbero dovute essere le prime ad accettare la buona novella erano proprio quelle che facevano più fatica ad accoglierlo il conflitto non era solo con gli estranei ma anche e soprattutto con i propri parenti con la gente di nazareth loro si rifiutavano di credere in gesù perché non riuscivano a capire il mistero che dio il mistero di dio che avvolgeva la parola di gesù da dove gli vengono queste cose e che sapienza è mai questa che gli è stata data e questi prodigi compiuti dalle sue mani non è costui il carpentiere il figlio di maria il fratello di giacomo di giuseppe di giuda e di simone e le sue sorelle non stanno qui con noi non riescono a credere in gesù i fratelli e le sorelle di gesù l'espressione fratelli di gesù suscita grande polemica tra cattolici e protestanti basandosi su questo testo e su altrui i protestanti dicono che gesù ebbe più fratelli e sorelle e che maria ebbe più figli i cattolici dicono che maria non ebbe altri figli che pensare di tutto questo in primo luogo le due posizioni sia dei cattolici sia dei protestanti tutte e due hanno argomenti tratti dalla bibbia e dalla tradizione delle due rispettive chiese per questo non conviene discutere su questa questione con argomenti attinenti solo alla ragione perché si tratta di convinzioni profonde che hanno a che vedere con la fede e con i sentimenti sia dei cattolici sia dei protestanti un argomento attinente solo alla ragione non riesce a smontare una convinzione del cuore irrita e allontana anche quando non condivido l'opinione dell'altro devo comunque rispettarla e noi cattolici e protestanti invece di discutere sui testi dovremmo unirci per lottare in difesa della vita creata da dio vita così sfigurata dalla povertà dall'ingiustizia dalla mancanza di fede dovremmo ricordare altre frasi di gesù sono venuto affinché tutti abbiano vita e vita in abbondanza che tutti siano uno affinché il mondo creda che tu padre mi hai mandato chi non è contro di noi è con noi marco 6 4 6 reazione di gesù dinanzi all'atteggiamento della gente di nazareth gesù sa molto bene che nessuno è profeta nella sua patria e dice un profeta non è disprezzato che nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua infatti lì dove non c'è accettazione né fede la gente non può fare nulla il preconcetto lo impedisce gesù pur volendo non può fare nulla e si meraviglia di fronte alla loro mancanza di fede per questo dinanzi alla porta chiusa della sua comunità cominciò a percorrere i villaggi insegnando l'esperienza del rifiuto spinse gesù a cambiare direzione lui si dirige verso altri villaggi e come vedremo nel vangelo di domani coinvolge i discepoli nella missione dando istruzioni su come devono continuare la missione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti